Le sette cornici. Nella prima cornice c'è l'inizio di ogni cosa. Quando scenderà la sera si vedrà se ogni promessa è stata vera. Nella seconda cornice c'è lo svolgersi di ogni promessa, l'inizio del cammino verso l'oasi o il deserto, la forza ed il coraggio all'inizio del viaggio. Nella terza cornice c'è la trasformazione di ogni parola, di ogni promessa ed intenzione. Cosa diventeranno nessuno lo sa. Nella quarta cornice c'è la nascita delle promesse, i semi che germogliano, le piantine che spostano la terra, le speranze e le illusioni che non finiranno. Nella quinta cornice ci sono le piantine che diventano alberello, le promesse hanno le gemme. Presto si apriranno ed impensati profumi intorno spargeranno. Nella sesta cornice l'alberello è già più alto, più forte. Le promesse sono frutti, le speranze sono fiori e si aspetta di nuovo la sera per poter imbottire di foglie i cuori vuoti. Nella settima cornice c'è la fine di ogni cosa. I cuori, dopo tanto tempo, sono ancora pieni di ombre e di promesse. Le parole sono spine, le speranze sono rose, senza petali, senza senso, senza scopo, senza fine.